Buonasera amici sono il vostro sballo e questa sera voglio mostrarvi cosa mi hanno regalato i pazzi del pianeta per il mio compleanno il 9 settembre ancora non ci posso credere guardate qui mi hanno regalato un rasoio da barba a forma di telefono con tre testine che ti fa giù i bassettoni guarda che è un piacere sembra anche un telefono così vedete tra veramente non so come ringraziare custodia il silicone applicato il suo vetro protettivo intanto non si sblocca perché vuole vedere la mia faccia da pirma per sbloccarsi e niente io ringrazio veramente i passi del pianeta guardate qui le tre testine per far giù i bassettoni il poeta passo il quarto rovalo il bambino del colosso per questo regalo eccezionale direi alla prossima da sballo vi raccomando continuate a seguirci su youtube via booboo 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 читse via booboo via booboo via booboo che ci sono uno un sacco очерesco il hell per Rush par weight par Grazie a tutti.